Ragazzi, eccolo qui, il Parallel Pack Ragazzi e ragazzi e soprattutto collezionisti, bentornati sul canale Nell'ultimo video ci siamo andati ad aprire lo Starter Pack che ci ha inviato la Tops Oggi sullo sfondo vedete le due pagine delle Legends Che sono le figurine che mi piacciono di più della storia della Champions League Qui oggi per andarci ad aprire il Parallel Pack Sì ragazzi, questa è la grande novità di questa collezione Le figurine parallele, non vedevo l'ora di andarle ad aprire qui insieme a voi Nell'ultimo video, per chi se lo fosse perso, questo è quello che abbiamo trovato Vi faccio vedere quelle più interessanti Sì è vero, Pippo Inzaghi, Pan Bronkost, Xavi Hernandez, Paolo Maldini Un altro, Filippo Inzaghi e Kylian, Sbappé e poi tutte le altre Se le volete vedere, mi raccomando, andate a recuperare il video Detto questo, non perdiamoci in chiacchiere E oggi ci andiamo ad aprire questo Parallel Pack Album posizionato sullo sfondo Parallel Pack Aperto, andiamo a tirare fuori i pacchetti Eccoli qui ragazzi, i pacchetti Li abbiamo tirati tutti fuori Eccolo qui il Parallel Pack Che ci andremo ad aprire Alla fine, ce lo mettiamo qui Ora ci andiamo a fare lo spacchettamento Di queste altre bustine Il Parallel Pack Ragazzi, eccolo qui 9 e 99 con all'interno 80 figurine Più le 5 Che sono qui le parallele Partiamo dal primo pacchetto Oggi grande unboxing Andiamo a vedere chi troviamo all'interno di queste bustine E abbiamo Tony Cross Wendell E poi Dieng Ture Kovacic Sergio Ramos John Stones Shurs E attenzione Abbiamo Tony Rudiger E sotto E sotto c'è Tony Cross Con in versione Best of the best Ovviamente Tanto, tanto Real Madrid Con questa che è la maglia Che tra l'altro Ci hanno inviato Gli amici di Magliaco.com Una delle maglie Che è più belle Secondo me Di questa stagione Quella del Real Madrid Andiamo avanti E abbiamo Uh, Edin Dzeko Bello così Con dietro La bandiera Della Bosnia E poi abbiamo Renan Lodi Uh, Next Gen Fabio Miretti E anche Anche questa Veramente molto bella Edward Sobol Olivier Torres Origi E poi abbiamo Ivan Peresic Con la maglia Del Tottenham Aranguitz E sotto Abbiamo Karim The Dream Fresco Di pallone d'oro Benzema E sotto Abbiamo Harry Kane Il capitano Del Tottenham Andiamo avanti Pacchetto Che ha fatto Più fatica Ad aprirsi E abbiamo Erics E poi Furusashi Del Celtic Upamecano Guglie Next Gen Road E poi abbiamo San Giustè Simi Simicas Del Liverpool Akomashi First Stiger Guardate Prima volta Prima volta Che appare Sulle figurine E poi abbiamo Lo Stemma Eccolo qui Must Match Win Ovvero la squadra Che ha vinto Più partite E sotto Abbiamo La figurina Doppia In orizzontale Di Nunes E Gonzávez Andiamo avanti Altro Pacchetto Per noi Ho già perso Il conto Dei pacchetti Che ci siamo Già Aperti Ragazzi Ovviamente Fatemi sapere Sotto nei commenti Cosa ne pensate Se questa collezione Vi sta piacendo Se la state facendo Se volete vedere Qualche altro Tipo Di spacchettamento E poi abbiamo Vitigna Kevin De Bruyne Il KDB Windal E attenzione Abbiamo Didier Ragazzi Didier Drogba Legend Veramente Bella Questa E sotto Abbiamo Joao Felix Veramente Molto Molto Bella Lo sapete A me Le Legend Fanno sempre Sempre Piacere In queste Collezioni Infatti Sono sempre Molto contento E penso Che si senta Quando Le trovo Perché mi esalto Particolarmente Nicolo Barella E poi Angel Correa Shesny Della Juve Fodoi Montiel Rafael Leao E poi abbiamo Next Gen Oliver Skip Aubameyang Ancora con la maglia Del Barcellona E ragazzi Mass Minute Played Ovvero Il giocatore Che ha giocato Più minuti Nella storia Della Champions League Eccolo qui ragazzi Lionel Messi Veramente Veramente Molto bella Questa E sotto Timo Werner Andiamo avanti Mamma mia Che belle Queste di Drogba E di Messi Veramente Forse Le più belle Che abbiamo Trovato Fino adesso Insieme a quelle Ovviamente Di Maldini E di Inzaghi Ma non vedo l'ora Di andare ad aprire Il parallel pack Per scoprire Le parallele Che Troveremo All'interno Però Prima di questo Andiamo a finire Questo spacchettamento Vediamo Cosa c'è qui Una Forsticker Anche in questo caso E poi abbiamo Reis Abbiamo Matip Ta E poi Per quanto riguarda Il calcio Femminile Abbiamo Leon Del Barcellona E una figurina In orizzontale Con Renan Lodi E Renildo Ultimi due pacchetti Prima di passare Al parallel pack Ragazzi Vediamo Se siamo Ancora Fortunati Vediamo Cosa troviamo All'interno Di questo pacchetto E abbiamo Casemiro Vincitore Ragazzi Di 5 Champions League Un'altra Calciatrice E poi abbiamo Perez Abbiamo Tiago Silva Vincitore Di una Champions League Giorgino Wijnaldum Ancora Con La maglia Del Paris Saint-Germain Phil Foden Serginio D'Este E poi abbiamo Attenzione Van Dijk Bella Bella Veramente Queste fatte Così E poi abbiamo Brobery Giocatore Giocatore Veramente Molto Molto Interessante Attaccante Dell'Ajax Che sporna Sempre Grandi talenti E secondo me Lui potrebbe Essere Veramente Uno di questi Federico Di Marco Dell'Inter Diego Costa Del Porto E poi Gleison Bremer Dell'Inter Un giocatore Dell'Eintracht Francoforte Il Papu Gomez E poi Bon Mati Sempre Calciatrice Anche in questo caso Del Barcellona Kuluseschi Pasver Il portiere Dell'Ajax E poi abbiamo Ragazzi Il manager Con più titoli Vinti Nella storia Della Champions League L'unico Allenatore Ad aver vinto I cinque Maggiori Campionati Europei Il nostro Carletto Ancelotti E sotto abbiamo Tra i best Of the best Trent Alexander Arnold Detto questo Dopo aver trovato Messi Dopo aver trovato Didier Drobot E dopo aver trovato Il nostro Carletto Ancelotti Ragazzi Eccolo qui Il parallel Pack Con cinque Figurine All'interno Lo andiamo ad aprire Con molta cura Questo è il primo Parallel Pack E vediamo Chi troviamo All'interno Ragazzi In versione parallela Abbiamo Nella versione Green Milik E poi abbiamo Robert Lewandowski E poi Joao Lasciata Fatemi sapere Sotto Nei commenti Cosa ne pensate Io ringrazio Ancora Tops Italia Ciao 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 Ciao